Amici di Cioccomo, buongiorno. Il giorno dopo abbiamo voluto andare avanti dopo quello che ieri vi abbiamo mostrato con la redazione con il nostro Montalbano all'esterno dell'ospedale Valluce di Como per capire dove vanno a finire i soldi che chiedevano i due sedicenti volontari. Allora, l'associazione alla quale i soldi vanno si chiama, ci hanno detto così, ODS Italia Soccorso. Allora, facciamo una cosa semplice, cerchiamo su Google, ODS Italia Soccorso. Ecco, questa è la ricerca immediata. Ecco, allora esce questo, organizzazione di volontariato ODS Italia No Profit, ma come potete vedere non esce Italia Soccorso da nessuna parte in questo momento. Esce ODS Organizzazione di Volontariato, però Italia Soccorso non figura. Allora, facciamo un'altra cosa perché vogliamo essere più realisti. Andiamo a vedere quali sono queste organizzazioni di volontariato, appunto ODS Italia Soccorso, come potete vedere sulla pagina di Google, non compare, non compare in alcun modo. Ce ne sono tantissime altre, ma questa non compare. Allora, facciamo un'altra cosa, facciamo un'altra ricerca. Guardiamo su Facebook, vediamo un po'. ODS Italia Soccorso, per capire se online esiste questa realtà. E come potete vedere, anche qui, cari amici, non abbiamo nulla. Valtellina Soccorso, Valtellina Soccorso, ODS Croce San Michele, Rescue Italia, SOS di Olgiati. Ma come vedete, di questa associazione che ieri era all'esterno dell'ospedale Valduce, come vedete, non c'è traccia. Ve lo abbiamo dimostrato proprio con la ricerca online, sia su Google che su Facebook, a noi non risulta. Quindi la domanda che vi abbiamo fatto ieri direi che è assolutamente lecita. Volontariato vero o inganno nei confronti delle persone?